Ora siamo alla pagina dedicata all'ATP Finals e a tutto quello che succede a Torino intorno all'evento. In collegamento, in diretta da Piazza Castello, c'è Magdi Abo Abia. Magdi. È una città in festa, è una Torino gioiosa per queste terze edizioni dell'ATP Finals, una manifestazione che è entrata nel cuore e nella mente della città. Tanti gli eventi collaterali, non solo al Palo Olimpico, al Village, alle nostre spalle, siamo qua a Piazza Castello, Casa Tennis, c'è Vincenzo Nibali che sta parlando ai tifosi della sua esperienza sportiva. Prima del dibattito c'è stato un momento per le autografi, uno spazio quindi per far capire l'unione fra tifosi, fra appassionati di sport e grandi campioni, senza dimenticare la sinermania che ha portato in città migliaia di persone. Siamo qui con Guido Bolato, segretario generale della Camera di Commercio di Torino, al quale facciamo subito una domanda. È una città da tutto esaurito? Direi proprio di sì. Noi abbiamo i dati dell'osservatorio alberghiero, che ci dice che mercoledì ci ha detto che il sabato prossimo avremo il 90% di camere vendute, il che significa praticamente il 100% perché poi le altre saranno andate via nel frattempo. Quindi assolutamente sì, ma è anche una città che sta scoprendo le final sempre di più, il fatto di essere finalmente usciti dalla pandemia ha fatto sì che tutti si scatenassero alla ricerca dei tennisti, degli autografi, ma anche una gara tra i commercianti, i pasticceri, gli ristoratori per inventarsi piatti e cucine, cose nuove per vivere il momento. Una città quindi plasmata in funzione delle ATP Finance, con eventi, anche iniziative, per cui involge le migliaia di persone che sono giunte in città per questa settimana di grande tennis. Ringraziamo Guido Bolatto e andiamo a vedere con Massimo Lanari il clima che si respira al fanvillage.